Ma qua è una scelta difficile, perché... Questo è il coupé, abbiamo un bellissimo... Anche il blu diverso, eh? Qua c'è una scelta tra il coupé? L'interno è completamente diverso. Il coupé è una famiglia, molto bello. Famiglia, famiglia. Ma quante persone vanno in questa macchina? Quattro persone? Dici? Ma quattro persone? Non, 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 non.